Guarda, ma io te lo dico con tutta l'umiltà del caso, ma in un anno da ministro, provo a pensare con tutti i limiti che io possa avere. Il decreto Genova, oggi la rivoluzione elettrica l'abbiamo fatta noi, la micromobilità elettrica, porti salvati, la differenza la fanno le persone. Quando più fai, più la narrazione che ti viene costruita attorno è distruttiva perché tu vai dentro un sistema che invece deve andare solo come dice lui, c'è sempre il flusso di denaro che va seguito, quando lo dai a tutti i cittadini con interessi, con servizi migliori, infrastrutture migliori, tu devi morire per loro.